I giorni passano, la nuova stagione si avvicina e le scadenze incombono. Sono diverse le pendenze che gravano ancora sul club etneo, spese non indifferenti a cui si aggiunge la tappa obbligata dell'iscrizione al prossimo campionato. Sono giorni difficili, ma anche di un ritrovato entusiasmo in un momento in cui, nonostante le difficoltà, sembra intravedersi una luce in fondo al tunnel. E mentre si attende l'arrivo a Catania di Jorge Vergara, probabilmente domani in Italia e venerdì in Sicilia, dove resterà un giorno o poco più, lasciando in città verosimilmente i suoi consulenti e alcuni incaricati dello studio commercialistico Catarraso. Le operazioni di mercato vanno avanti. Ieri, nel tardo pomeriggio, l'ufficialità dell'acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Matteo Pisseri, portiere classe 91, ritenuto tra i migliori della Lega Pro, che si è legato contrattualmente alla Catania fino al 30 giugno 2019. Si attende invece solo l'ufficialità per l'arrivo a Catania del centrocampista sloveno Urban Zivert dall'Akragas. Mancano intanto poco più di due settimane alla fine delle vacanze per i calciatori. Sembra ormai certo che sarà l'Umbria la sede del ritiro precampionato. Gli etnei si raduneranno in sede il 14 luglio, dopo le visite mediche e la presentazione all'università alla partenza il 17, per quella che si annuncia come una nuova e nonostante tutto emozionante avventura.